Benvenuti al video. Questa è una presentazione del prodotto Desktop V-Box Versatile 32. V-Box Versatile 32 Alto Prestazioni Gaming Gamer Desktop PC Veloce 4.0 GHZ AMD FX 8350 GT 620 Per maggiori dettagli e ottenere una grande offerta sul più grande rivenditore online al mondo Amazoniti, clicca sul link nella descrizione sottostante. Grazie per la visione.